Ciao ragazzi, video di recensione di materiale per gestire il freestyle libre questo sensore qua ha un'adesiva attaccata al braccio per leggere la glicemia e ci esiste un prodotto che potrebbe aiutare a toglierlo mi è stato raccomandato dai vostri commenti su youtube e quindi io l'ho voluto subito provare perché mi è sembrato una figata cioè praticamente sono delle salviette, ve le apro disinfettanti che però sono imbevute di una sostanza che dovrebbe sciogliere l'adesivo come fa a TVVD40 con gli adesivi solo che è una salvietta disinfettante quindi è perfetto, disinfettante e scioglie gli adesivi quindi è una mano santa per rimuoverlo io prima avevo fatto un video dove consigliavo seguendo consigli letti dalle chat, dai forum l'olio Johnson però l'olio Johnson è un derivato del petrolio siccome noi con il sensore abbiamo un buco vivo c'è piantato dentro un sensore anche se è una canula morbida però comunque il buco che va nel sottopelle se noi utilizziamo l'olio Johnson derivati del petrolio possono penetrare all'interno della nostra pelle se invece questo è comunque un disinfettante mi piace di più come idea capite? mi è piaciuta di più l'idea comprato su internet non mi ricordo il prezzo comunque guardate sono tante se ognuna con ognuna ci facciamo un mese perché due volte al mese c'è il sensore noi siamo a posto per un anno, per due anni siamo a posto con una cosa del genere quindi ragazzi io vi faccio o se riesco vi metto il link il mio link affiliazione Amazon se riesco a metterlo se no vi faccio vedere la foto e dal nome del prodotto risalite voi e ve lo comprate anche in farmacia magari lo fate ordinare bene il secondo prodotto che invece mi avete sempre consigliato voi vi ringrazio di darmi le dritte è un tessuto non tessuto credo si chiami così visto che c'aveva una cosa simile e il stesso materiale però fix, mule, stretch 10x2 è buona la cosa non capisco perché lo chiamo 10x2 perché 10 è 10 ah per 2x2 metri ah forse sono 2 metri ah 10x2 metri può essere si ah perché no non è 10x2 centimetri 10x2 allora devo non chiamarlo ah 10x2 metri ah si c'è scritto proprio c'è scritto c'è scritto allora pensavo che 10 cmx2 cm no 10 cmx2 metri è comodissimo perché è un materiale dove lo tagli con le forbici quello che vuoi coprire te è il sensore è come una moneta da 2 euro quindi più o meno sta qua al centro diciamo come dimensioni e quindi noi semplicemente lo lo ritagliamo e ci abbiamo un bel pezzo grande io questo l'ho preso su internet stessa cosa voi guardate la sigla ve lo cercate in qualsiasi parte vi interessa semmai in descrizione se me lo chiedete vi metto il mio link Amazon Affiliazione questo questo qua costa una decina di euro credo lo stesso pure questo all'incirca ordinatelo in farmacia non ci avete le spese di spedizione se no su internet arriva comodamente a casa io l'avevo comprato in farmacia invece questo che è un tessuto molto simile vedete anche l'apertura dietro è simile cioè si apre così no vedi un adesivo qua un adesivo di là traspira lascia passare è resistente per l'acqua ma infatti che cosa è resistente l'importante è che ti lo tieni in posizione quindi fai il bagno e ti rimane attaccato il sensore però questo era piccolo quindi io per attaccarlo il sensore al centro ben a destra ben a sinistra dovevo mettere due pezzi quindi tagliavo attaccavo un pezzo poi un secondo pezzo sempre comprato in farmacia chiedendo tessuto o non tessuto ma hanno dato questo con tessuto chiedendo tessuto o non tessuto però non sono rimasto soddisfatto è un po' troppo attacca poco non è che è proprio non è che è proprio il massimo diciamo è una cosa resistente per i bambini no no questo ce l'ho può servire in tante occasioni diciamo ma non è non è il top altre native economiche comprate in passato vi faccio vedere questi dai cinesi al supermercato cerotti allora questi qua sono dei cerotti che hanno lo stesso questa cosa qua del tessuto o non tessuto l'inconveniente è che c'è questo spessore in più con un euro però siete in grado andate a un discount nella zona cerotti o da un cinese con euro due euro siete in grado di proteggere diciamo il cerotto per un mesetto diciamo di varie misure comunque quelli grandi ci stanno e queste sono andate abbastanza bene poi vi faccio vedere un'alternativa che avevo comprato proprio per il mare e sono questi qua non vanno bene per me perché perché il mio figlio non c'è questo economico dal cinese per il mare questo praticamente uguale però a DeMarca che è internato in farmacia e che hanno un cerotto anche abbastanza ampio dove praticamente ecco c'è l'inconveniente della parte morbidosa davanti che crea spessore sul sensore e poi la parte rimane un po' troppo rigida a me non piace Alessandro non piace mio figlio che ci sia questa rigidità è vero che una volta che l'avevo messa la prima volta non avevo capito che devo togliere la pellicola pure sopra c'è la pellicola sotto l'attacchi poi togliere la pellicola sopra però rimane più rigido rispetto ai cerotti super delicati siccome a 7 anni la pelle è più delicata siccome la deve avere attaccata per 14 giorni a vita a vita eh sì per sempre una volta se uno spara una volta sull'altra però insomma per sempre mio figlio ha optato per una volta provato quello che ho comprato in un secondo momento super morbido insomma ha optato per quella serie spero di esservi stato utile se è così ragazzi mettete un pollice in su ah ce l'ho qui sotto ma ne faccio vedere anche queste salvezze qua che compro su Amazon mi trovo molto bene quando devo disinfettare col tempo devo dire disinfetto un po' meno cioè qualche volta se ho la pancina pulita così è lo faccio però ogni tanto ogni tanto è disinfetto primo mese disinfettavo di più ora siamo a un mese e mezzo di diabete tipo 1 siamo più veteran e anche perché l'airport adesso mio figlio sta usando l'airport che allo stesso modo avrà bisogno di questi qua per essere rimosso forse no perché forse è un adesimo meno forte forse si stacca a mano senza problemi però insomma adesso magari disinfettiamo qualche volta in meno però quando quando disinfetti invece che ce l'ho sotto mano prendo la servietta questi sono monouso mi trovo bene e anche questi ragazzi cercate di mille usi sono della fresh and clean sicuramente su internet da qualche parte li trovate ciao ragazzi buona giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.